DJ, Cristina e Raffaele, e questi sono l'ultimo, una baria! Pronti che si salta insieme, con te Raffaele, via Sanziame! Salta! 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 Siamo da solo, signora Ma quanti ne siamo anche tu credi Via 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 Saluto E' una ragazza del virus Ci ha dato un'epoca E' un'epoca Senza il stop Siamo il stop E' un'epoca E' un'epoca Anche io non mi sto credo E' un'epoca